Ciao a tutti, io sono Natasha, ho 15 anni, vengo da Aveglia, provincia di Lecce. La mia vita con internet è cambiata da così a così. Perché? Fin da piccola sono sempre stata vittima di bullismo, mi hanno sempre messa fuori da ogni cosa e quindi non ho mai avuto la possibilità di avere amici. Amici veri, non amici che un giorno ti dicono ciao bella mia e un giorno dopo ti diranno il calcio. Grazie ad un video, grazie a internet, anche se sono a distanza, per me avere degli amici veri che ti vogliono bene, ti accettano per come sei, ti aiutano, ti sostengono, per me è un qualcosa di bello. Nonostante i 10 anni che sono stata vittima di bullismo, adesso per me avere tanti amici è bello. E sono contenta che internet mi abbia permesso di avere degli amici con cui posso parlare, amici con cui posso avere la certezza di non essere sola, perché per anni mi sono sentita sola, mi sono sentita esclusa, adesso mi sento bene, sto bene, ho degli amici e sono più che felice. Quindi grazie internet, grazie a digitale, grazie a tutto ciò che mi ha permesso di fare tutto ciò.